Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi non ho idea di dove siamo, sono sincera, ho visto un video ASMR di una ragazza che giocava qui su Roblox questa mappa, suppongo che sia questa, di parkour, di base, è una mappa parkour e lei ci giocava praticamente in silenzio, ora io non ho intenzione di stare in silenzio, però mi attirava e siccome in molti mi avete effettivamente detto, non avete visto niente voi, riproviamoci, ma io voglio anche queste cose, ce l'ho, ma che bello, che cos'è, ok allora, e quindi ho detto ma facciamola anche noi una mappa parkour io non sono molto brava e vedremo che cosa riusciremo a fare e voi giocate di soli ok, va bene stavo dicendo, voi ci giocate di soli dalle mappe parkour, le sapete fare? io, no quello ho peggio di me ok 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 ma io spero però che ci siano tipo dei checkpoint no, se prendiamo queste cose di luce penso che moriamo ok, poi ci dobbiamo arrampicare no? oh mamma mia aiuto ok 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 ragazzi mi raccomando, poi anzi vi metto il nome della mappa se volete provarla e mi fate sapere in caso voi dove siete arrivati oh no oh mamma mia ok ragazzi, riarrivo al posto dove ero morta almeno dovete vedere sempre le stesse cose ma se tocchiamo queste cose luminose, è che mi secco ricominciare, capito? no, 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 andiamo veramente male ragazzi ma scusa, solitamente come funziona? no ma io non lo volevo acquistare l'ho acquistato? no, almeno ma dico, ci saranno dei checkpoint o uno arriva in cima al primo colpo? ma poi che, come sono vestita tra l'altro? no ok eravamo arrivati qui oh, ma questo dondola pure oh, papà mio ragazzi no, però vi prego, ditemi che c'è un checkpoint come facciamo ad arrivare? allora, facciamo una cosa ragazzi siccome la vedo male ci dobbiamo dare un va bene vado anch'io come va lei mamma mia, mi viene un'ansia facciamo il ponte tic 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 e queste palle no 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 ragazzi no 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 il parkour non fa per niente per me no 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 io sono una persona molto pazienza ma pazienza sono una persona molto paziente ma il parkour non è tra quelle pazienze che io ho evidentemente perché già mi sono seccata aiuto ok 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 mamma mia però vi prego ditemi che c'è un checkpoint non ce la faremo mai ragazzi ok oh mamma mia come lo facciamo qua no ma seriamente ce la facciamo evidentemente ce la facciamo ora capisco perché quella ragazza ci gioca ci gioca in ASMR praticamente anche il mio si trasformerà in una ASMR perché non mi viene da parlare che sono concentrata ok ok oh mamma mia ma io vorrei capire se prendiamo ci fa danno ok immagino le fa non lo finiremo mai ragazzi non lo finiremo mai che poi mi viene sempre più l'ansia no più avanti andiamo più in alto saliamo mamma mia ma perché dondola e ora perché è così no 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 dai no 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 Grazie a tutti. 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 Sinistra. Destra. Non me lo ricordo più. Me lo ricordo più. Grazie a tutti. ok ragazzi siamo riarrivati al ponte io allora ok quel ragazzo ci ha appena confermato che dobbiamo andare di qua ora però è che sono tutti uguali quindi non lo so come facciamo a scoprirlo va bene ragazzi allora facciamo una cosa se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e commentate fatemi sapere se anche a voi piacciono le mappe parkour anzi se solo a voi piacciono le mappe parkour perché a me non piacciono oggi ho appena scoperto che non mi piacciono e se in caso volete vedere la continuazione ora se questo video cioè se io farò la scelta sbagliata questo video si interromperà qui e mi farete sapere se volete vedere la continuazione se no continueremo fino a quando non morirò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e in caso vi saluto perché potrebbe essere la fine del video come no alla prossima ragazzi o no vediamo però però siamo caduti qui dai ragazzi voglio continuare voglio continuare un pezzetto se non moriamo prima visto che ci stiamo facendo un sacco di danni ok dai oh mamma mia com'era ora me lo sono dimenticata quindi era sinistra destra destra ok sinistra destra destra quindi sinistra destra destra ok me lo devo segnare perché se no ok va bene dai andiamo avanti fino a quando no moriamo oh però comunque siamo arrivati ma là c'è un'altra cos'è quella è un'altra ma qui come facciamo qui moriamo sicuro ma abbiamo la vita quella in alto a destra è la vita sinistra destra destra ma penso che moriamo però ah no però si ricarica l'energia cioè la vita ok buona sapersi ok siamo morti va bene ragazzi ufficialmente questa è la fine del video basta niente a me devo dire che mi fa venire un pochino di nervosismo queste mappe parkour fatemi sapere che cosa volete se volete vederne altre o se preferite altri video e comunque suggeritemi anche altri giochi perché io a poco a poco li sto facendo tutti quelli che mi suggerite voi quindi aspetto che è arrivata non lo so come chi sei tu ciao va bene ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.